Ma chi l'avrebbe mai detto che tutto sarebbe partito da un post su Instagram? Signori, oggi vi racconto uno dei ricordi più belli della mia vita. Misano 2018. Riguardando oggi tutte queste clip registrate ormai un paio di anni fa, penso a quanto io sia migliorato e a quanto sia stato fortunato nell'aver vissuto tale esperienza. Uno degli ultimi gran premi visibili dal vivo è un tonio verbalmente incapace di esprimersi. Fidatevi, questo ragazzo qui non avrebbe meritato tutta questa fortuna, ma solo un paio di schiaffi. Eppure, ci ho creduto ed è andata bene a quanto pare. Oh, quando ti dicono carpe diem. Proprio cogli l'attimo, realmente. Da dove iniziamo? Ero su Instagram, scrollavo la home quando un post del team Sky Racing VR46 mi ha guardato e mi ha esplicitamente chiesto di realizzare un video promozionale per combattere l'inquinamento. Beh, avevo più di 50 fantastici osceni gameplay attivi sul canale e quindi nella mia testa potevo farlo. E indovina un po'? Mamma, domani parto. Sì, per Misano. Che culo pazzesco. Ok, non è Las Vegas, ma poco conta. Era dove volevo essere. Il problema, regà, è che non ero pronto. Mario, sei un imbecille! Un lessico osceno, una faccia schifosissima e un disordinato di prima categoria. Conseguenze? Il venerdì arrivo al circuito con un'ora di ritardo. Bello, iniziamo alla grande. Per chi non sa dove mi trovasse in quel momento, questo ragazzo e il suo migliore amico erano dentro al paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli, ossia quella zona riservata a piloti del calibro di Valentino Rossi, Mark Marquez e Orge Lorenzo. Tre nomi piccoli piccoli. Non ero pronto, non sono pronto e non so se lo sarò mai per stare lì. Ma ormai ero dentro e non potevo tirarmi indietro. Anzi, dovevo continuare a mettermi in gioco, non potevo fare altrimenti. Mi sentivo come uno di quegli sfigati dei cartoni animati che prendono mazzate su mazzate ma devono rialzarsi e continuare a combattere. Diciamo che in questo caso dovevo più lottare contro me stesso, però alla fine ero responsabile del mio migliore amico Minorenne, volevo parlare con i piloti e dovevo combattere contro la Dorna sul cosa potevo registrare e cosa non. Ma questa è l'esperienza della mia vita. No, non posso non registrare ogni singolo momento. Non posso non registrare ogni singolo pezzo di ogni moto. Non che mi interessi in maniera particolare, ma volevo ricordare tutto. Voglio che sia un ricordo indelebile nella mia mente. Cioè, qualora dovessi perdere la memoria, voglio rivivere tutto quel weekend di gara. E devo dire che, alla fine, mi ho fatto abbastanza schifo. Pensate, sono riuscito anche a portare a casa un pezzo della moto di Niccolò Bulega. La manopola. Raga, la saponetta dei piloti is for boys. La manopola is for men. Ovviamente la pronuncia è volontariamente sbagliata. Preciso ulteriormente che non l'ho rubata. L'ho semplicemente chiesto. Ho avuto semplicemente la faccia tosta di andare vicino a un tecnico dello Scaries in Team Vr46 e chiedergli, me la posso prendere la saponetta di Foggia, chiesi? No, non posso dartela, però posso darti la manopola. Beh, che fai? Te ne privi? Autografi qui, autografi lì, foto con il campione del mondo, Pecco Bagnaia, e intervista gentilmente, chiesta da Luca Marini. Ripeto, chiesta da lui. Allora, è stata una buona qualifica se ho riuscito. L'ho detto prima, raga, non ero pronto a tutto questo. Non avevo la giusta preparazione a tutto ciò. Balbettavo e non vi nego che mi sentivo stupido. L'intervista, non uscì poi questo granché. Al termine di questo scempio, Luca Marini si avvicina e mi chiede quanti iscritti avessi sul canale YouTube. Lo ricordo ancora oggi, risposi 998. Non arrotondai a mille, non ebbi il coraggio di mentire nemmeno di due iscritti. Ripensandoci, potevo creare io due account e arrivare a mille. Ma no, ho detto la verità. Lui mi guardò e qui arriva quello che per me è il pezzo forte. E mi disse che lui ci credeva, credeva che io potessi crescere. Mi disse proprio che se oggi sono qui, dovevo farmi due domande. Mi disse che oggi ne ho mille, ma domani ne potrei avere un milione. E sinceramente, cito, sarebbe bello dire che io ho creduto in te. Hai anche la prova a video. Ecco raga, lì ho svoltato. Lì ho capito che davanti a me non avevo altro che un ragazzo che viveva con la sua passione. Non un superuomo che mi ero costruito, non un meglio di me, ma un uguale a me che aveva creduto in un sogno e buttando il sangue è arrivato a correre nella categoria più importante del motociclismo. La MotoGP. Voi non potete capire quanti io fossi impreparato di fronte a lui e magari oggi, forse, non sono nemmeno presente nei suoi ricordi. Avevo capito quello che volevo e sapevo che per ottenerlo dovevo lottare con tutto me stesso per averlo. E che dire, il weekend prosegue magicamente, porto a casa l'autografo di un certo Mark Marquez, porto a casa l'autografo di un certo Orge Lorenzo, la foto con Fabio Di Gianantonio, uno dei miei piloti preferiti, ma questi sono solo alcuni, ho fatto la collezione. Manca solo The Doctor, il Vale, Rossi c'è, ma no, in realtà non c'è, me lo sono fatto sfuggire dopo più di due ore di fila ad attenderlo. Inutile dire che le gare sono state quelle che sono, ho potuto godere di una vista incredibile, lotte mozzafiato, motori esplosi e un podio tutto italiano. Perdonami Dovi, non volerne a male, ma in quel momento io levo il cuore a mille nel vedere Pecco Bagnaia alzare la bandiera italiana al cielo. Un'esperienza che non si può comprare. Ma dopo tutta questa pappardella, qual è la morale e qual è il messaggio? Questa esperienza, questa realtà, non si sarebbe mai palesata se non avessi avuto le palle di buttarmi in qualcosa che era palesemente più grande di me. Non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato, ma ho avuto la faccia tosta di buttarmi non sapendo dove alloggiare, con quali soldi e consapevole che io lì ero un di più. Per il momento ero un di più. Adesso tocca a me, tocca a voi fare quel salto, perché la morale è la solita classica frase del cazzo che mi ripeto sempre, crederci fino alla fine, qualsiasi cosa accada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.